Eeeh what's up a tutti ciurme e benvenuti a giocherina in questo nuovissimo episodio del Plague Tale Innocence Vediamo ragazzi se riusciamo a raggiungere almeno i 30 like per questo nuovo video Ed eccoci qua di ritorno dopo che l'ultima volta ragazzi ci eravamo lasciati Dopo che Miss aveva vissuto un terribile incubo in quanto divorata dai sensi di colpa eccetera eccetera Yugo intanto se l'era squagliata praticamente ragazzi pensando di riuscire a trovare sua madre E adesso non ci resta che vedere cosa succederà E Missia si perde cercando Yugo è esausta e ha un'allucinazione in cui Yugo non è altro che uno dei tanti fantasmi scaturiti Da suoi sensi di colpa perfetto per cui per una volta ero riuscita a capire bene il significato di quello che sto guardando Perché sapete che io di solito ragazzi sono un pochettino lenta a stare a volte dietro alle storie Ma stiamo scherzando Ma ci sto a credere No 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 ragazzi lui ci sto a credere Non so se ci rendiamo conto di quello che è successo Yugo si è praticamente consegnato a quelli dell'inquisizione Pur di rivedere sua madre nel senso io mi consegno però tu mi prometti di deliberare o non lo so Comunque di farlo stare insieme alla madre non lo so di preciso quale fosse il suo intento Vabbè Senza parole Veramente Veramente ragazzi Oh Come mai ci sono dei passaggi all'interno dei mobili Che meraviglia Il punto è che con Yugo suppongo potrei Ok Ok Questo è stato veramente di impatto direi E suppongo che saranno frequenti questi colpi così inaspettati Devocazione Ah certo povero vecchio stolto no Ovviamente Perfetto L'unica cosa buona È che Con Yugo ragazzi possiamo passare Attraverso insomma i passaggi più stretti Ecco Questo sì Oh 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 Non mi vedrai Non mi vedrai Non mi vedrai Oddio Che approfittiamone ragazzi Vediamo se possiamo passare qua Senza che questo stolto ci veda Oh Gesù Ma che diavolo stiamo facendo Ok quel tizio suppongo che sarà sempre di spalle Perfetto Ho perso tempo perché avrei potuto approfittarne prima Nel dubbio ragazzi Ho preferito tenere le mie piccole chiappette qui Provittiamone ragazze Provittiamone 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 Eeeh Ok Meno male Meno male Non è successo niente di troppo spiacevole It's so big Where's mommy What? Material of materials Gold unique By breaking you I clear your way The way to the blood of the chosen one Ma che cazzo Ma cos'ha sta gente ragazzi Che vaneggia Così tanto Non lo so Allora Io non so se Rischiare andando di qua Rapidamente l'unica cosa Saggia da fare Fare il giro lungo Ok E passare qua sotto Tiki 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 Uh Che bebi Nissuzzi Ok Stiamo lì attaccato Attaccato alle chiappe ragazzi Perché immagino Che dovremo Passare di qua Non lo so No Non credo No non credo Nemmeno Ma Allora Insomma Ah Devo passare direttamente Di qua Che stupida Che scema che sono Ok Comunque è fatto proprio bene ragazzi Perché dà davvero l'idea Insomma Di come Hugo è piccolo E di come riesce a infilarsi Insomma Nelle parti Più strette Un po' Attenzione alle bottiglie Non vorremmo farci Sentire No Tutto su scema ragazzi Non me ne racconta Io giuro Ok Vediamo un po' Dove andare Di qua non si passa Di qua si invece Ovviamente non potevo Insomma Passare questo pezzo Senza Rompere qualcosa Vabbè Ah di qua non si passa Di qua si Ciao ragazzi È stato un piacere Farvela sotto al naso Benissimo Che cosa potrò mai fare Hugo da solo Sinceramente Non lo so Quanto sta ragazzi Che poi parlano di Stavo dicendo Scusate ragazzi Prima di sbadigliare Che cosa pensa di fare Hugo da solo E che effettivamente Qua parlano di Evocazione Cioè come se dovessero fare Un rituale Ed evocare Effettivamente Che cosa Ma bravi Oh oh Sì 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 Certo Mi chiedo Quello Lì in fondo Se avrà intenzione Di tornare indietro Sì Ne avrà tutta L'intenzione Perfetto Per cui Dovremmo poi Attendere con pazienza Di andarli dietro Dietro Una volta che Girerà le spalle Eccolo là Andiamo Oh merda Non ti sei accorto Di niente Amico Niente Davvero 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 Credete Che Vi libererà Non lo so Vabbè Dove vado Dove vado Oh merda Ah devo passare di pont Perfetto Menomale che ho fatto Il tempo ragazzi Perché se no Avrebbe potuto essere Un problema Andiamo Andiamo Ok Questa situazione Cavacca Mette Ragazzi Sicuramente Tanta Tanta Anzi E preoccupazione Perché Cioè Se già siamo Praticamente Impotenti Con emissia Contro i nemici Figuriamoci Col piccolo Yugo Oh Ah Ok Mi sa Che in questo caso Dovremmo approfittare Del Vapore Sì Fumo Vapore Quello che diavolo è Allora dovresti Chiudere gli occhietti Ogni volta che Viene tutto fuori Ok Sta cosa È geniale Ragazzi È fantastica Davvero Il fatto che il fumo Ci possa nascondere Speciale Davvero Tu stai lì Eh Non ti muovere Che io passo Di qua Eeeh Ce l'abbiamo fatta Yuppie Quindi questo rituale Dovrebbe Questo rituale Dovrebbe Praticamente Liberarli Dal Dal morso È questo L'obiettivo Principale Almeno così Mi sembra di aver capito Caspita Ci sono le cariche Arte qua Ah sì Caspiterino Uuuuh Ho gettato la sentenza Attenzione Ok 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 Sti colpi Ti giuro Sono talmente Inaspettati Anche perché Uno si dimentica No se ne dimentica In pratica Bene Già da questo Secondo in avanti Non so se Me ne dimenticherò Tanto facilmente Però questo posto È spettacolare No 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 worry Ci nascondiamo Qua sotto Restiamo immobili Perfettamente immobili Fino a quando Girerà le spalle Potremo Andare dove Oh cazzo Ah Ah Attraverso il mobile Sì Quanto so stupida C'era il barco Già aperto Ma so andata In garbuglia Col cancello Bene Vamonos Ah Che spettacolo Questi passaggi Fra immobili Davvero L'ascensione No effettivamente Stavano parlando Probabilmente Di quello che era Un tuo antenato Hugo Ok Quindi sì Quegli affreschi Che c'erano Lì ragazzi Nelle terme Nelle terme Non so se Si possono definire Terme o che cosa Erano effettivamente Reali Nel senso che appunto Durante la peste Nell'epoca Di Giustiniano C'era stato Un altro caso Di insomma Di malattia Così Quindi probabilmente Erano antenati Dei Derun Perché appunto Ste terme Ragazzi Sto sito romano Era proprio Guardate caso Nella dimora Dei Derun Certo Eh vabbè No Ma che cazzo Ma da dove caspita È uscito quel tizio No mo scusate No 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 Rimani lì eh Vai 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 Fai i tuoi discorsetti Da solo Vai Ah eccolo qua Non verrà mica di qua Vero Ok dobbiamo sperare Che quest'altro stronzo Se ne vada in tempo Prima che quell'altro Ritorni Forza Forza signore Forza e coraggio Divora Interessante Eh non lo so amico Non lo so Avrei potuto andare Direttamente di là Vabbè Me la sono giocata male Ripeto Quello che stavo dicendo Prima che questa ambientazione È veramente Spettacolare Ragazzi Per non parlare Delle musiche Che sono Annesse Davvero Il lavoro è stato Magistrale Ragazzi A dove cazzo La devo andare Sinceramente Non lo so Ah di qua Ecco Oh Guardate le unghie Ragazzi Le unghie nere Di quest'uomo Ok Quel tizio Intenzione di andarsene O che cosa No perché Effettivamente Potrebbe essere Un problema Mi devo infilarla sotto Questo è chiarissimo E ho perso l'occasione Per farlo Rimettendomi qui Che caspita Nascondiamoci Nascondiamoci un attimino Qui E quando lo scemotto Se ne andrà Noi ci Ah Troppo in fretta Sì sì Certo Che cosa vi dovrebbe dire Quella povera donna Lasciatela in pace Maledetti Intanto passo qua sotto C'è qualcuno Ho capito Ma ti sei dovuto consegnare Spontaneamente Capisci Manneggia Manneggia Perché queste soluzioni Drastiche Però è stato È stato davvero Molto coraggioso Da parte sua Questo Bisogna riconoscerlo Ragazzi Allora Caspiterina Devo continuare A scendere Sì Su questo È totalmente Ragione Piccolo Yugo Vediamo un po' Dove sarà Mai L'ingresso Per i sotterranei E chi lo sa Chi lo sa Chi lo sa Forse dobbiamo Andare Di qua Qui ci sono Delle guardie Oh È una guardia Credo Suppongo Il problema È che mi sa Che dobbiamo andare Proprio lì Guardate il caso Oh Ah è il vecchiaccio La vecchia Mugna È malatissimo Tipo Sicuramente Guarda Ma dai Davanti agli ospiti Mugna 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 Ok ragazzi. Sai che se ne frega questo ormai. Ma non un sainte. La tua inquisizione è finita. Significa che una nuova era inizia. Quando i poppetti come te tu saranno scendere e mi chiedono di salvare. Caspita. Oddio che lei dormeva. Pensavo che vuole essere ammazzato. Molto bene. Andiamo a vedere se Beatrice Dorene ha regaino conoscenza. È strano, ma devo seguire lui. Perché stai resistendo così? Perché hanno la stessa stessa? Perché hanno la stessa stessa? Che cosa dovrebbe capire? E' un'unica. Adiz. Ad Ignem. Ad Lucem, signor. Quindi, hai vinto il grande inquisitor? Sì. Grazie, ve lo giuro che tutta questa situazione mi ha messo certi inquietini addosso. Ve lo giuro. E' stato abbastanza angosciante. Cioè, non so se effettivamente sto vecchiazzo non è altro che un folle ormai. quello sicuramente da un lato è un folle che per salvare se stesso. Comunque lui dice di voler salvare tutti. Eccolo qua. Oh, guarda che bella giornata. Grazie per capire il figlio. Abbiamo venuto dopo lui per due settimane. E poi si arriva qui, chiedendo di vedere la mia madre. Oh! Mi sa che non dobbiamo passare di qua. E' sembra che ha un senso di humor. Che non si mantiene per molto tempo. Ho dovuto andare a vedere la mia madre. Che va a fare con lei? Non lo so, Hugo. Non lo so. Oddio. Da dove passa? E' arrivata rapidamente. Eh, ma lo so, Hugo. Ma vedrai che sta arrivando una guardia. Te ne sarei accorto. Meno male che mi sono nascosta qua dentro. Da dove, caspita, passo adesso. Cidenti. Ah, ok. Se ne deve andare. Perfetto. Uuuuh. Madonna che ansia. Aspetta, Liano. Non ti muovere. Oddio. Dove vado? Eh, vabbè. Oddio. Oddio, oddio. Vai via. Vai via. Semplicemente. Ok? E tu non ti muovere. Ok. Intanto Lord Nicholas, ragazzi, se ne è andato proprio allegramente per i cavolacci suoi. Ehm, oh, 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 oh. No, 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 no. Oddio, stavolta è proprio intenzionato a scovarmi, ragazzi. Accidenti. Ok. Vediamo se posso passare di qua senza farmi vedere davvero stavolta. Ok. Ce la siamo scampata, ragazzi. E di quel passaggio, yuppi. Ah, perfetto. Lord Nicholas è un piacere seguire il suo deretano. Dico davvero. Oh no. Che zarola. I l'avevo chiamato sul corso della macula, è questo non so? La cosiddetta è servita all'ambilità. Come cerchi senno della giuillah, era vuo, ma non completamente. I� disagoni al cappare dei carri jadi come... Devi conter... Per ciò? Eh, perché ero? Oh, per loradorственный consigli. Perciò per loradorarlo ad il materiale che siamo trovati a coastman eh. Che schifo Madonna santa questa si è un'immagine da incubo direi Con calma Iugo con calma tutto a suo tempo di sicuro adesso lo troveremo Oh Gesù che sta succedendo qui Oh grande Ah si? In che senso sentiremi? E' incredibile ragazzi questi topi sembrano essere totalmente innocui Mentre quelli che stanno qua dentro direi che non sono qua Oddio dio mi ha visto Cosa sta succedendo con lui adesso? Ehi, muovete tranquillo Stiamo cercando di lavorare Mi piacerebbe aspettare un piccolo pozzo Rati preferono la carne fresca Sì, me ne vado Me ne vado, me ne vado, me ne vado Non è sangue no però Ah Oh Savora questa respite La tua morte non è un end La tua morte non è una nuova razza di angeli E loro saranno i tuoi figli E loro E loro Sì, sì Lo è assolutamente Direi Direi che lo è Decisamente lo è Mi faranno muovere Uh Ci siamo Iugo, ci siamo Vedi che l'abbiamo ritrovato? Oh Che ansia Ha questo capitolo Vabbè questo che tu passi di là io passone qua eh In mezzo alla me il mal sangue la cacca vedo E' stata la fretta di andare dalla mamma capisci? Eh? Cioè state minacciando, la state minacciando tipo di veratroci tormenti? Eh? Ammazza che bel pezzo di salame qua sopra eh Perché lo lasciate Ragazzi Vabbè dai Comunque Dovremmo esserci nei sotterranei se non sbaglio Ok Ehm Ah Please At least let me die out there You wouldn't like it out there, believe me At least here your carcass can still be a value to our help Certo, certo, avrà uno scopo utile, no? Certo Oh Bastard Capito, Nicolas non perdere tempo, dai Madonna mia Hey Kid What the hell are you doing here? Shhh I have to find my mommy The alchemist Oh Eh You should Sorry I need to go Goodbye Ciao Già l'avevo lasciato indietro Probabilmente dovevo Continuare un attimo il dialogo davanti a lui ma Qua non abbiamo tempo He's talking to mommy For the last time Will you answer my questions? Non credo Or perhaps You are still upset about what happened Beh, direi, no? Direi Right Our torturer will take care of you You'll soon have your voice back Mark my words Oh, sta tornando Oh Oh, meno male che c'era giusto questa cassa qua Ciao Ciao Nicolas Ciao De Retano di Nicolas Grazie per avermi portato fino a mia madre ragazzi Finalmente la stiamo per vedere Di nuovo Mamma Oh Mamma Hugo But So they Amicia said you were dead But you're not Amicia My darling You must go If they find you here No I'm staying with you Oh Oh Hugo Did they take your blood? Yeah Oh my god All right Hugo We'll go together But you have to find the keys They must They must Keep them In the room At the End of the corridor Se sono arrivato fin qua Oh, che credi Mammina Di avere a che fare con un mocciosetto qualsiasi Oh Oh Be very careful Come back as soon as you have the keys Certo, certo Perfetto ragazzi Allora Mi ha appena salvato la partita Direi che per oggi possiamo Terminare qui Questo video È stato davvero Immersivo Questo episodio E Che dire Angosciante Davvero Ogni volta che vedo quel maneretto vecchiaccio Ragazzi Mi sarebbe La tremarella Insomma Da dentro Le viscere Capite? Anche perché Sono uscito totalmente di testa Secondo me Hugo comunque È stato davvero molto coraggioso Nonostante si sia consegnato spontaneamente Alla fine è riuscito a A sgattaiolare via Vabbè ragazzi Vedremo cosa succederà La prossima volta Questo video termina qui Grazie a tutti Un bacione Un bacione Ciao Vi ricordo ragazzi Che se volete costanti aggiornamenti sul canale Potete trovare tutti i link dei miei social in descrizione E anche il link per farmi delle donazioni Ciao